buongiorno da taglio di po oggi siamo su un campo sportivo un campo di calcio in particolar modo dell'atalanta perché perché c'è un'azienda appunto a taglio di po che si chiama delta prati che fornisce il manto appunto dei campi sportivi di mezzo italia in particolar modo oggi vediamo che stanno preparando il pa il campo dell'atalanta appunto e vediamo un pochino cosa fa questa azienda che un'altra azienda particolare del nostro polesine il polesine tra l'altro è una delle rarissime zone europee vocate alla produzione di prati erbosi in zolla ed è proprio il nostro clima che consente di usufruire del più ampio parco stagionale utile e quindi viene assicurata una crescita vegetativa che viene apprezzata soprattutto per i campi sportivi tra l'altro oltre al campo dell'atalanta la ditta ha fornito il prato dove si allenano i portieri dei campioni d'italia appunto la juventus e nel suo albo d'oro fra i tanti il centro sportivo facchetti di milano la pinettina di appiano gentile il bentegodi e il marassi nel 2010